Ciao a tutti, sono Calogio Lupo e benvenuti al mio primo episodio di Wolfmania. In questo special mix vi propongo le ultime novità Electro House di Showtech, Datalife, WW, Hardware e molti molti altri. Questa è The Code di WW e Umet Hodgen. Grazie per la visione! 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 Non c'è Take some All I need to see is my friend Out here Out here Out here Take some Out here Four Three Two One Take some Make some Out here 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 Show us what you got when the motherfucking beat drops Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501